Benvenuti al Distro Chefier, il panino che vi presento oggi si chiama Blues Burger, è una rivisitazione del Blue Cheeseburger di Body Guy Special a Chicago, una leggenda del blues, in versione italiana, quindi abbiamo usato della carne di fassona piemontese e del gorgonzola piccante. Piccolo tocco per rispetto della tradizione anche delle pere che gli danno quell'aspetto un pochino croccante, un elemento americano l'abbiamo conservato, la forma dell'hamburger naturalmente e poi un pochino di salsa barbecue per dargli quel tocco interessante. Servito così semplicemente senza null'altro è sicuramente un panino di grandissimo gusto.